Oggi, 11 agosto, la Casa Francescana Sant'Antonio di Padova di Manfria si prepara a festeggiare Santa Chiara. Proprio per quest'occasione sono stati organizzati dei grandi festeggiamenti e la tradizionale processione per le vie del quartiere. Quest'anno ricorrono i dieci anni dell'istituzione della festa processionale, perché Santa Chiara l'abbiamo sempre festeggiata, ma da dieci anni a questa parte, a parte i due anni della pandemia, la Santa è uscita per le strade della frazione della Contrada, quindi incontra la gente ed è molto bello. Un po' è divenuta la protettrice del territorio. Quest'anno avremo la presenza, ma non è la prima volta, di padre Pietro Gerraca, che è il ministro provinciale dei fratelli di Cappuccini, verrà da Siracusa per ufficiare alla messa alle ore 19 e a seguire ci sarà la processione. Nata nel 1194 dalla nobile famiglia degli Offreducci, fu chiamata così perché, secondo la madre, quella bambina sarebbe stata una luce tale da illuminare la luce stessa. Visse in maniera molto forte l'influenza del suo amico San Francesco d'Assisi, tanto che da giovanissima scappò dalla casa paterna per seguirlo nei suoi insegnamenti. Santa Chiara si rifugiò allora nella chiesa di San Damiano, dove fondò l'ordine femminile delle povere recluse, divenute successivamente Clarisse. A soli due anni dalla morte fu proclamata santa da Papa Alessandro IV. Attualmente le sue reliquie sono esposte nella cripta della Basilica di Santa Chiara d'Assisi. La festa di Santa Chiara è veramente divenuta un punto di riferimento per questa zona, diciamo un po' povera, periferica, con tanti problemi. Qui non c'è un luogo di culto, non c'è una parrocchia, quindi questo piccolo oratorio fa da riferimento a tutta la gente che vuole approcciarsi ai sacramenti, insomma alla messa, a un momento di preghiera. Siamo contenti di essere qui già da 27 anni, questo è il ventisettesimo anno. Il messaggio della cosiddetta Pianticella di Dio del 1200 è tuttora molto attuale, espira le ragazze di tutto il mondo. Santa Chiara intanto è stata una giovinetta ai suoi tempi già molto moderna, nel senso che pur scegliendo la vita religiosa lei fu autonoma e coraggiosa, essendo anche una nobile a lasciare la famiglia per seguire quella che era la sua scelta con consapevolezza. Quindi una donna molto coraggiosa, molto forte e poi sì, la sua attualità sta nel fatto che lei continua ad essere esempio, luce, come dice il suo stesso nome, Chiara, per tutte quelle ragazze, giovani ma meno giovani pure, per tutte le donne che vogliono avere un punto di riferimento forte, di fede, di consapevolezza, di impegno nella società. Perché Chiara era anche molto impegnata nell'aiuto ai poveri, nel sostegno, quindi è stata una donna tutto tonto. Il 17 febbraio 1958, Pio XII nominò Santa Chiara patrona della televisione e delle telecomunicazioni. Anche in questo sta la sua modernità. La televisione è un mezzo moderno, attuale, con il quale tutti ci confrontiamo e Chiara è proprio la patrona della TV.